Oggi a Mr. Gadget vi portiamo nel mondo della smart home con il miglior robot aspirapolvere oggi disponibile un sistema operativo incredibilmente intelligente, la capacità di riconoscere gli ostacoli e quando serve di svuotarsi da solo Benvenuti da Mr. Gadget, oggi vogliamo presentarvi il nuovo robot aspirapolvere iRobot Roomba J7 Plus questo a distanza di molti anni è il nuovo prodotto che non solo innova molti degli aspetti tecnologici che contiene ma soprattutto introduce un vero e proprio sistema operativo in grado di gestire in modo molto più efficiente e molto più intelligente la pulizia della casa è innegabile che sul mercato esistano prodotti che dal punto di vista del prezzo sono probabilmente più competitivi rispetto ai robot Roomba J7 Plus ma nessuno di questi può proporre una piattaforma di intelligenza artificiale davvero molto evoluta come quella che viene introdotta in J7 Plus e che si chiama Genius 3.0 uno dei veri punti di forza di questo sistema operativo è la capacità di interagire con altri oggetti della casa intelligente di imparare quelle che sono le abitudini degli utenti ma soprattutto di modificare il proprio comportamento in funzione dello spazio in cui opera apprendendo ad esempio gli spazi della casa per ridurre quanto più possibile i tempi di pulizia Roomba J7 Plus è in grado attraverso una telecamera di riprendere gli spazi della nostra casa di creare una mappa intelligente in cui riconosce gli ambienti in cui si muove per ottimizzare i tempi di pulizia non solo perché Roomba J7 Plus o J7 Plus è in grado di riconoscere gli oggetti sul pavimento e di evitarli così come è in grado di rilevare i punti in cui c'è più sporco per concentrare la sua azione proprio in quelle zone fino a che la pulizia non è perfetta oltre a questo è in grado anche di pulire una stanza alla volta secondo quelle che sono le nostre indicazioni a proposito di pulizia che poi è la cosa più importante da fare J7 Plus è dotato di due spazzole controrottanti in silicone più efficienti di quelle in setola la maggior parte dei prodotti oggi in circolazione è dotato di una sola spazzola e la differenza nel momento in cui si pulisce si vede davvero c'è un altro dettaglio molto interessante Roomba J7 Plus si svuota da sola una volta terminata la pulizia quando arriva alla stazione base fa tutto da sé ci sono dei dettagli che non vi dobbiamo nemmeno citare perché iRobot sono parte della dotazione standard dal primo giorno le spazzole laterali sono più lunghe per pulire meglio negli angoli e poi il sensore per evitare di cadere dalle scale tutti elementi che conosciamo ormai da anni nei prodotti iRobot torniamo però a sottolineare un aspetto davvero importante che è quello del nuovo sistema operativo che fa davvero la differenza rispetto alla concorrenza perché riesce a gestire in modo più evoluto alcune attività coordinando ad esempio il lavoro di Roomba con quello di Brava Jet per lavare dopo l'aspirazione e il nuovo sistema operativo trova la sua espressione migliore nell'applicazione semplice da utilizzare realizzate in modo preciso con il controllo di tutte le funzioni compresa la pianificazione della pulizia che può essere fatta automaticamente quando in casa non c'è nessuno si possono controllare le stanze e si può decidere di pulire solo in alcuni ambienti infine c'è anche la compatibilità con gli assistenti vocali per cui molti dei comandi che vengono impartiti possono essere sfruttati attraverso la voce ci chiedete spesso se Roomba J7 Plus è in grado di lavorare anche con il buio è dotato di una luce frontale che supporta la videocamera però funziona meglio con la luce diurna insomma un prodotto davvero molto completo ma d'altro canto iRobot ha inventato il mercato dei robot spilapolvere continua ad innovare non abbiamo dubbi nel dirvi che per noi iRobot Roomba J7 Plus è promosso da Mr. Gadget non abbiamo dubbi nel dirvi che per noi